Il Consorzio di Bonifica del Bientina Il Consorzio di Bonifica del Bientina Attività indispensabile per promuovere una nuova cultura della bonifica legata alla salvaguardia dell'ambiente naturale Il Consorzio di Bonifica del Bientina Una potenzialità al servizio di tutta la lucchesia Il Consorzio di Bonifica del Bientina Una potenzialità per la salvaguardia del territorio della lucchesia Dal 1998 assicura la manutenzione dei corsi d'acqua nei comuni di Alto Pascio, Capannori, Monte Carlo e Porcari Da quest'anno il Consorzio ha avviato la sua operosità anche sul territorio del comune di Lucca Un impegno quotidiano per prevenire il rischio idraulico sui canali di competenza Un lavoro accurato, svolto in collaborazione con gli altri enti I comuni, le autorità di Bacino, la regione toscana, la provincia Un progetto di ampio respiro Mirato alla realizzazione di interventi strutturali di difesa Come il rifacimento degli argini La realizzazione di casse ed espansione Gli interventi di sistemazione di movimenti frannosi Un'opera preziosa Tesa a valorizzare la produzione agricola del nostro territorio Nel solo 2005, ben 110.000 euro di opere sono state appaltate a ditte agricole del territorio Un'attività indispensabile per promuovere una nuova cultura della bonifica Legata alla salvaguardia dell'ambiente naturale Il Consorzio di Bonifica del Vientina Una potenzialità al servizio di tutta la lucchesia